Dopo la difficile eliminazione in Champions League serviva una reazione e la reazione direi che effettivamente c'è stata ragazzi, vittoria fondamentale, Milan 5, Sampdoria 1, una Sampdoria che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato e questo sicuramente ci ha agevolato la pratica questa sera perché non è arrivata la solita Sampdoria che sta tutti dietro la linea della palla perché lì, lì sicuramente saremmo andati in grossissima difficoltà Che partita è stata? Allora ragazzi, la squadra è entrata in campo sicuramente con la mentalità per vincere anche perché l'Atalanta nel pomeriggio con la vittoria sul Verona ci aveva agganciato, una partita anche quando la Sampdoria non ha pareggiata mai messa in discussione, una partita che viene sbloccata da una bellissima azione di Brain Diaz che era un grandissimo assist, mette in porta Leao che fa uno stop delizioso e di interno mette la palla in porta per l'1-0 Una Sampdoria che praticamente non attacca mai, se non che, poi questo parliamo anche della sfiga che è il Milan, prima palla della Sampdoria del mio di nota, Zanoli, a proposito Zanoli, peccato c'è del Napoli perché fossi stato Maldini, fosse stato realmente di provvedere a Sampdoria Avrei chiuso la trattativa stasera per chi mi ha veramente, ma veramente entusiasmato Zanoli sulla destra brucia, praticamente c'è Brain Diaz e Chetteo, mette una palla in mezzo Quagliarella tira, una palla che passa in mezzo a 2-3 persone del Milan, si insacca le spalle di Pagnano 1-1, un Milan che comunque non si arrende, continua, continua, continua e ricontinua ad attaccare Un 2-1 nato sul colpo di testa di Giroud, su un meraviglioso cross di Brain Diaz Un 3-1 finalmente dopo 9 mesi danno un rigore al Milan, Giroud lo trasforma per il 3-1 Secondo tempo, 4-1 di Diaz su un'azione da manuale, meravigliosa triangolazione La palla che va a tonali, tonali Diaz, praticamente un 2 contro 1 Diaz non deve fare oltre che insaccare la palla Ragazzi, poi c'è stato anche il 5-1 sempre di Giroud, bello, che è praticamente su un cross di Leao Praticamente fa vedere i sorciverdi a Nuitin, che gli fa cambiare mestiere Però ragazzi, è stata una partita meravigliosa C'è solo una mare in bocca, la gestione La gestione da parte di Pioli dei nuovi arrivi, no? Questa è praticamente la partita perfetta per far sbloccare persone come De Chetelare Far entrare Adli, far entrare Franks Cioè De Chetelare doveva essere ragazzi il primo cambio Subito, 3-1, al 55esimo Fai uscire Messias, fai entrare De Chetelare Poi vedi dove metterlo De Chetelare, se sulla destra, se tre quartista Però lo fai entrare Purtroppo stiamo sempre lì E' una gestione che lascia desiderare dei nuovi arrivati A questo punto si decida cosa fare di questo ragazzo Si decida cosa fare di Adli, si decida cosa fare di Franks Si decida cosa fare di tutte queste persone Perché io non capisco assolutamente Partite sul 3-1 Poi si vede, no? Dal momentum della partita Era una partita che finiva in goleata La Sampedoria continuava comunque a fronteggiarti a viso aperto Con tranquillità C'è stata qualche, nel secondo tempo Una falla a golle per la Sampedoria sola Ma fai entrare i nuovi arrivati Anche perché se tu fai entrare il CDK Al settantesimo, al settantunesimo La squadra sul 5-1 ha smesso di attaccare Non è che si attacca con la demenza del cinquantesimo Del cinquantesimo Ma ancora la squadra voleva segnare Volevano far fare un altro gol alle A O far fare magari un altro gol a Giroud Lì è lì che Pioli ha peccato durante tutto l'anno Così come Questa è una partita che doveva essere Come gestione da parte di Pioli Una partita già vista Nel senso che Queste sono le partite Questo è il modo con cui affrontare le piccole In campionato Quando ancora eravamo in lotta Champions Metti la squadra al titolare Così magari anche ti segna le A Ti segna Giroud Cioè ti ritrova quella condizione mentale Importante Dato che non segnava da mille e mila partite E poi quando la partita è in ghiaccio Metti le riserve Nel secondo tempo Ci sono 5 cambi Hai modo di rivoluzionare la squadra La partita è stata una partita mai messa in discussione Servivano ragazzi Servivano Questi tre punti Anche con goleata Vi spiego perché Perché la Roma ragazzi ha due punti Qualora dovesse arrivare a pari punti Mila-Roma Scontri diretti Sono in parità Pareggio l'andata Pareggio ritorno E quindi Conterrà la differenza rete Quindi è importante aumentare la differenza sulla Roma Non si sa mai Speriamo comunque di Mantenere questo quinto Quarto posto Perché poi sicuramente Da quello che si dice Da quello che è fatto Parliamoci chiaro La Juve Quanto meno Verrà Entro fin l'anno Squalificata dalla UEFA Per quanto riguarda le coppe Cerchiamo Per quanto possibile Magari di Prendere Agganciare un'isperata Lazio Perché magari la Lazio L'ho vista in piaduta Possibilmente potrebbe perdere Qualche punticino E Niente ragazzi Questo è quanto Rimane a lavare in bocca Per la gestione Da parte di Decheterare Per tutto l'anno Niente Lunedì mi raccomando Ragazzi Rimanete sintonizzati Perché uscirà Un video Pioli in Pioli out Tutti i motivi Per Volere una sua permanenza O volere Un suo esodero Vi ringrazio Per essere stati qui Mi raccomando ragazzi Like al video Commentate Condividete Salute amici iscrivetevi al canale Finisco questo video Lo carico E sono subito live Sul mio canale youtube Con Josip Yosef Vi aspetto Per rispondere live Alle vostre domande Bella raga Mi raccomando Mille iscritti Nel minore tempo possibile Buonanotte a tutti Mille iscritti Mille iscritti Mille iscritti